Ciao 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 Testa a fare la fotografia E qui inizia La trasferta scontrone Ma non lo faccia vedere Cazzissimo Buonissimo Mister, lei cosa prevede oggi per questa trasferta? Io prevedo che vincerete Minimo Sempre per vincere Il presidente tira fuori la porzione magica Per i giocatori No, 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 trevi, quale magia? Qui possiamo vedere tutti i giocatori Sono gli azotocci Non lo sanno più Madonna mia Vabbè, non lo ha preso Non lo ha preso Non lo ha preso Non lo ha preso Con la capuga L'amore Questo E' un decisio Eeeeeee E te, te, te E 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 to E te E te Un saluto anche ai nostri bomber che oggi prevedono un paio di gol ciascuno Minimo Allora c'è un po' e mi chiedevole Chi ci va? Però non mi chiedevole Questa è un po' la giornata mi chiedevole Qui glielo organizzano ogni settimana Eh vedi troppo No Perché se no subito chiediamo per andare Ma a me è troppo Il grande assiste con La guerra è bella Ma ciao Mauro Ti metto mancando Giusto Lo vedi un lato Non ne fa Non ne fa Buon appetito a tutti e arrivederci Grazie